Io credo che siano veramente pochi gli artisti della seconda metà del Novecento e anche dei giorni nostri che siano riusciti a mettere al centro del loro lavoro l'uomo. Direi una sorta di umanesimo contemporaneo. Quali sono questi artisti? Uno su tutti secondo me è Iannis Cunellis. Cunellis è un artista greco che arriva a Roma nella seconda metà degli anni 50 però prima di vedere le sue immagini occorre fare una premessa. La storia dell'arte vive anche di queste premesse proprio perché ogni periodo è collegato all'altro e quindi per capire ciò che è successo bisogna vedere quello che è capitato prima che si studi Picasso o Van Gogh o Monet ma questa è una regola che vale per tutti. Dunque Cunellis appartiene a quella generazione che si riforma sul finire degli anni 50 negli anni 60 e poi anche dopo. La premessa è questa. Abbiamo conosciuto negli incontri precedenti la figura di Jackson Pollock, un artista americano che compie una grande rivoluzione quella di portare il quadro dal cavalletto al pavimento e facendoci gocciolare il colore sopra ed entrando fisicamente nel quadro. È una presa di posizione molto forte. La pittura di Pollock è la pittura dell'epica americana, delle grandi praterie, dei grandi spazi e quindi vi è in Pollock un'uscita dal quadro, il quadro inteso come quadro tradizionale da cavalletto. Questa uscita del quadro la troviamo anche e soprattutto in fontana che abbiamo già conosciuto. Il taglio ma non solo quello ci portano in una dimensione altra, cioè non più sul quadro ma semmai oltre il quadro. Bene, Cunellis ci spiega questo concetto che ho appena espresso, cioè l'uscita dal quadro, che è un concetto molto importante per capire la storia dell'arte contemporanea. L'uscita dal quadro, dice Cunellis, cioè l'abbandono del sistema di una pittura intesa come rappresentazione, uscita dal quadro per lavorare con lo spazio e la materia, per andare verso l'oggetto, per fare un'arte fisica oggettuale, qua è importante, in cui l'artista non rappresenta ma presenta. Questo passaggio dalla rappresentazione alla presentazione è quello che caratterizza tutta l'arte a partire dalla seconda metà degli anni 50 in avanti, anche se Duchamp l'aveva già intuito con largo anticipo in maniera diversa. Allora vorrei farvi vedere un'opera che se non avessi fatto questa premessa e se non avessimo già tenuto insieme un po' di incontri di storia dell'arte non risulterebbe poco chiara, e cioè l'installazione dei famosi cavalli, quando nel 1969 Cunellis porta nella Galleria del Lattico a Roma i cavalli veri. Cavalli veri che segnano uno spazio, lo circoscrivono, che hanno un odore naturalmente, che si muovono, che mangiano, che creano un'energia con il pubblico che non è più lì passivo a guardare un dipinto. E questo è l'altro punto importante per entrare nella poetica e per comprendere Cunellis. Cioè la galleria a partire dagli anni 60 non viene più intesa come spazio dove appendere un prodotto, cioè il quadro, ma come un luogo dove avviene un processo. C'è una specie di teatro, per usare le parole esatte, la galleria diventa un teatro e l'artista costruisce una drammaturgia, un atto unico con al centro l'uomo. Questo è Cunellis. Ora cambia quindi la prospettiva. Ciò non toglie che c'è chi dipinge, chi fa quadri. Io non sto dicendo che Cunellis ha cancellato il mondo, assolutamente. È uno degli artisti che si pone, come tanti altri, in maniera un po' diversa. Quindi intendendo non più il prodotto quadro, ma il processo che porta il quadro. Per fare un esempio, ecco qua c'è una penna per esempio, no? Qua c'è un pennarello e là c'è una matita. Diciamo che a questa generazione non interessa il pennarello, la penna e la matita, interessa scrivere. Mi spiego, interessa lo scrivere. Lo scrivere è il processo. Questo è il prodotto. Ecco, questo passaggio è molto importante e lo troviamo poi in un'opera, in tutta l'opera di Cunellis, ma ve ne vorrei mostrare una che ci fa capire anche il debito di riconoscenza nei confronti della tradizione. Ed è questa che state guardando, Tragedia Civile, è il titolo. Ed è un'opera che lui realizza nel 1975 per la Galleria Lucio Amelio a Napoli. Qui la memoria è intesa non come citazione, ma come reinvenzione. Cioè, il riferimento è all'arte bizantina, ai mosaici, ma anche a Vienna, a Klimt e alla cultura mitteleuropea si fa riferimento proprio con quella taccapanni che ricorda certi locali viennesi. E c'è il cappotto. Il cappotto è una presenza forte. Lo troviamo anche in questa grande installazione con i cappotti a terra, con i cappelli, con le scarpe. Oppure l'uomo lo troviamo anche quando Cunellis mette in scena le putrelle, cioè il lavoro. Oppure in altre opere ancora che hanno in comune questa superficie di ferro che ha la misura di un doppio letto. Due metri per un metro e ottanta. Ecco ancora l'uomo. Oppure nelle opere più piccole un metro per settanta che è la misura del foglio fabriano, dove tutti quanti hanno disegnato. Quindi l'uomo, l'umanesimo, l'uomo al centro della ricerca di Cunellis. E poi non più la rappresentazione, ma la rappresentazione. C'è un dipinto che Cunellis ama molto, che è I mangiatori di patate di Van Gogh, in cui ne abbiamo parlato, in cui si vedono questi contadini che stanno mangiando le patate che hanno raccolto con le loro mani. Non è una cosa particolarmente bella, non è l'oro, non è un diamante, sono delle patate. Ma Van Gogh ci dice che questa è la bellezza. La bellezza di Cunellis è per esempio il carbone, ma non il carbone dipinto, il carbone per ciò che esso è. Quindi questo carbone che viene depositato dentro dei sacchi consunti sporchi di iuta e appoggiati su queste mensole che sono come delle braccia protese che ce lo stanno donando. Ecco allora, ciò che io amo molto in Cunellis è questo grandissimo rispetto nei confronti della vita dell'uomo, del dramma della vita che va in scena in un grande atto unico. E poi naturalmente ci sono una serie di altre opere che rimandano spesso, sembrerà strano, alla figura di Caravaggio. Cunellis è romano di adozione e dice qui non poteva nascere il chiarismo perché siamo figli di una cultura ombrosa, lui usa questa parola, e cita proprio Caravaggio come colui che dipinge l'uomo, lo riscopre nel suo aspetto più drammatico, ha il coraggio di creare un teatro di intensa realtà e quando diciamo teatrale non lo intendiamo in senso negativo ma nel senso positivo del termine perché è il dramma che nasce all'interno di un'immagine drammaturgica. Ecco, è chiaro che Cunellis non vive nel Seicento, vive i nostri giorni e quindi si pone in maniera diversa, ma quello che sta veramente al centro del suo lavoro è questa figura qui. Per esempio c'è un'installazione anche molto dura se vogliamo che lui realizza in Spagna con le carcasse di carne appese ai ganci, cosa che tra l'altro avevano fatto i grandi pittori come Rembrandt, come Guttuso stesso nella bucceria perché anche quella cosa lì fa parte della nostra vita. Quindi è come se la vita, gli oggetti, le cose che fanno la nostra vita entrassero appunto nel suo atto unico non più attraverso la rappresentazione ma attraverso la presentazione. C'è una delle tante mostre, la mostra non è più attaccare il quadro, la mostra è interpretare lo spazio che di volta in volta viene messo a disposizione. Nel 2006 questa mostra avviene a Milano nella Fondazione Pomodoro e lì c'è un grande regista che ricordiamo, Ermanno Olmi, che filma questo atto unico e di cui io vi faccio vedere solamente la parte finale, poi rimando la visione su altri canali. Insomma, ecco io credo che Olmi abbia, da poeta, da regista poeta qual era, sia riuscito veramente a farci sentire la straordinaria e intensa poesia di uno dei più grandi artisti del secondo novecento, Iannis Cunellis. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.